Lasciamo l'Australia, ci spostiamo, ritorniamo alle nostre latitudini, lo facciamo con una storia veramente toccante. Il protagonista è Luca, un ragazzo di Arcegno che è morto otto mesi fa a 13 anni a causa di un'emorragia cerebrale. Adesso la sua storia diventerà un libro, il servizio di Mauro Antonini. Lui è presente dappertutto e abbiamo creato questa parete per lui. Sì, sono dei bellissimi ricordi. Lui, il nostro raggio di sole, le sorelle, la Lara, questa è la Sofia, che sono molto molto unite a Luca. Luca, che è lui qua, si vede Luca con Charlie Chaplin, è la casa di lui, che piaceva a Charlie Chaplin per la sua frase, un giorno senza un sorriso e un giorno perso. Luca se n'è andato otto mesi fa, quando una quarta emorragia cerebrale ha spento la sua vita. Il giovane di Arcegno, che amava Charlie Chaplin, di cui citava spesso le frasi più belle e significative, si è aggrappato sino all'ultimo alla speranza, circondato dall'amore della famiglia e degli amici. E al padre Domenico ha chiesto di raccontare la sua storia attraverso un libro, un'idea che presto diventerà realtà. Nel mese di maggio prossimo, ad un anno la sua scomparsa, verrà infatto dato alle stampe. E gli ho promesso, mi è venuto così spontaneo, gli ho promesso che avrei raccontato la sua storia. Avrei raccontato la sua storia perché secondo me lui avrebbe meritato una cosa del genere. Lui meritava di essere conosciuto e di mandare avanti i suoi valori. Sì, Luca vive sempre intorno ai bambini, ai ragazzi, era molto socievole. Un libro che verrà finanziato anche con i proventi ricavati dal vino che verrà prodotto sfruttando un vigneto situato nei pressi di Arcegno. Potremmo usare il ricavato del libro e il ricavato del frutto del vigneto per creare un qualcosa che possa aiutare anche gli altri. L'associazione vorrebbe aiutare le famiglie che si trovano nelle nostre condizioni, si sono trovate e si stanno trovando nelle nostre situazioni. Lui piacevano fare dei lavoretti, lui alla fine mi ha chiesto ma mi facciamo dei lavoretti, però lui anche sapendo che piacciono a me mi voleva un po' motivare di fare perché lui non ce la faceva più, non aveva più anche la manualità, però lui era felice se facevo io dei lavoretti.